Buongiorno, anche se direi più buonasera perché sono le quattro minuti qui, mister, master, maestro o semplicemente, o semplicemente, David Lynch. It's January 9, 2022, and it's a Sunday here in Naples, 50 Fahrenheit at around 10 Celsius. This means that ecco la giornata veramente, 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 veramente fredda in questi giorni, in questo periodo. Direi infatti che siamo proprio nella media. Io invito a vedere sempre il mio video sul freddo, che ho fatto qualche giorno fa, in cui spiego due mie pratiche per combattere il freddo e perché non lo soffro più di tanto. Ieri ho fatto il tampone molecolare per il Covid, vediamo un po', appunto, domani dovrebbero uscire i risultati. Vediamo un po' se sono positivo o meno, con raffreddure, insomma, mi sto leggermente riprendendo. Per quanto riguarda il video sui pensieri, lo vorrei fare, ma non so se ce la faccio. Vediamo un po', però, nel caso, comunque, niente di chi, magari poi, appunto, comunque lo faccio domani, domani sicuro lo devo fare, perché comunque devo cercare di dire alcune cose. E quindi, ricordatevi sempre che il caso è separato da questo video, anyway, as you just see from the window, absolutely we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine, come ha visto totalmente il voloso, anzi sta piovendo proprio. E quindi, inutile che dico la frase cult, ovviamente le cose possono cambiare al momento o all'altro, ma ta solo e sui will see, perché è inutile, la vedo veramente impossibile, che cambia. Say the dis, so, non faccio neanche il più movimento con la testa, perché, beh, cambia diverse cose. E' inutile proprio fare alcune cose quando il tempo è brutto, quindi mi limito semplicemente a parlare, semplicemente. So, from the mythical window, with the colored curtain, veramente brutta comunque, perché il tempo, comunque, è quello che è. And it's green roller shooter. Come dico sempre, è inutile dirlo con Enfance, in questi casi. Poi non posso più dire, diciamo, la frase sull'albero di Natale, perché ovviamente l'abbiamo tolto, l'abbiamo tolto, quindi nulla da dire, diciamo. Niente può sostituire, stop, la bruttura di Dos Beautiful Blues, il fatto che non ci siano Dos Beautiful Blues Casi con golden sunshine, ma non fa niente. And finally, from a mythical keyboard, Yamari GX 640, IPG 625, have a great day, im, all the people, who follow the channel, the reports, e un saluto veramente a tutti. So again, have a great day, im, all the people, and everyone too.